L'aspetto del dialogo e dell'inculturazione è che il primo passo è che tu ti devi mettere in ascolto della cultura che trovi, non puoi andare con un'area di superiorità. Noi abbiamo la migliore cultura, noi abbiamo la musica migliore, no ti devi mettere in ascolto, faccio esempio l'esempio della musica. Noi pensiamo che Verdi, Vivaldi, Mozart, Beethoven sono insuperabili. E poi vado in Brasile e trovo musicisti come Vinicius de Moraes, Chico Humbert de Hollanda, Caetano Veloso, Gilberto Gio... Cioè che parlano della vita, allora devi ascoltare.